16 settembre 1970. È sera quando il giornalista dell'Ora di Palermo, Mauro De Mauro, scompare. Il suo corpo non sarà mai ritrovato. Sulla sua morte è tuttora in corso un procedimento a Palermo che vede Totò Riina come unico imputato vivente. La morte del cronista ed ex combattente della decima mass è stata messa in relazione, ora al suo ruolo come consulente per il caso Mattei di Francesco Rosi, ora a un suo presunto scoop sui rapporti fra mafia e golpe borghese.